30 milioni di euro, a tanto ammonta l'investimento economico per i lavori di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 lungo la rotta ferroviaria Colico-Tirano. A meglio capire quali saranno i lavori in programma dal 26 giugno al 9 settembre e che tanto stanno già facendo parlare di sé, ci aiuta un comunicato di rete ferroviaria italiana reso noto quest'oggi. 39 i chilometri di nuovi binari che andranno a sostituire quelli oramai vecchi e troppo spesso causa di rallentamenti sulla rete. Ad essere rinnovata sarà anche la linea di alimentazione elettrica dei treni. Due scali ferroviari poi saranno interessati da ulteriori cantieri. In quello di Sondrio i marciapiedi verranno innalzati all'altezza di 55 centimetri adeguandosi così allo standard europeo previsto in modo da agevolare l'accesso ai treni. Nella stazione di Dubino invece verrà realizzato il secondo binario. Lungo i 70 chilometri che uniscono Colico-Tirano saranno poi rivisti per una manutenzione straordinaria tutti i ponti. Lavori decisamente importanti considerando che ad essere impiegati quotidianamente saranno circa 100 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici che lavoreranno ai cantieri per un totale complessivo di più di 70.000 ore di lavoro. Come ben noto, data la chiusura del tratto ferroviario, sarà un servizio sostitutivo di pullman a supplire alla mancanza dei treni. Gli orari delle corse saranno comunque consultabili sui canali web di Ferrovie dello Stato.